Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video con Mardin700 che vi parla Oggi siamo tornati qui su Pokémon Glazed Siamo nel quarto Siamo nel quinto Siamo nel quinto episodio di Pokémon Glazed Nello scorso episodio abbiamo battuto il Team Fusion Ma prima abbiamo battuto il Pikachu con la sciarpa al nostro nemico Allora in questo episodio dobbiamo andare a battere la palestra di Serenity Island Ok siamo con J che è il più scarso dobbiamo allenarlo un po' Non so se lo terrò in squadra E bene iniziamo già col primo Eh scusate lascio la finestra aperta che se no muoio di caldo Allora Sensory al 23 Al 23 Minchia Finita attacca Velocizzo sempre un po' io perché se no viene una roba lunghissima Allora switchiamo su Marshtomp Che è super efficace ed è anche il mio Pokémon più forte Quindi Facciamo Watergun Shottato Al 27 Gabibbo Watergun raga cioè cosa devo farci Non l'ho shottato Ora l'ho shottato Ok dobbiamo andare di qua Poi non so cosa si fa Cioè non so dove si debba andare perché non ci sono altre vie Uh devo toglierlo Krogank dalla squadra raga Io mi sa che lo tolgo perché È veramente Cioè non riesce ad allenarlo Watergun niente Morto Allora Eh adesso dove vado Ah di qua Che coglione Però prima andiamo a curarci i Pokémon Di qua Sa vedere che è sbagliata Ne son certo Minchia Nido King Perché c'ho ancora lui Madonna Perché c'ho ancora Jfly Dio santo Ecco 3 Con Trash Eppure su Pokémon Revolution Jfly mi fa un culo Perché Trash è una mossa fortissima Watergun Watergun Ok 28 28 Su Hero dai Allora adesso Dragon Rage Mica Fa il culo su Hero a tutti Ho parlato Ho parlato Ho parlato eh Ho parlato eh Porco 2 Gabibbo Sensor Sensor Ma è vero Perché Perché faccio Sandstorm Perché faccio Sandstorm Dragon Rage Grazie carissimo 28 Buono dai Buono dai Slash 70 Al posto di Eh si Magari Sand Attack Togliamolo va Comunque Secondo me È fortissima È fortissima Sta palestra Cioè ci sta Un po' ci sta mettendo In difficoltà È questo Già il capopalestra Benigni raga Però sfidiamoli tutti Allora Allora Oh Marshtomp Ok Finto attacco Macciotto Madonna Ma ha fatto un culo Eh ci metto Gabibbo Per forza Minchia Slash Porco cane Non gli ha fatto niente Dragon Rage Sì però Dragon Rage Sì però Oh Buonissimo Dragon Rage Non perdona Qua Di qua E di qua Ok Eh Ciao E benvenuto Nella Nella palestra Di Sere Scusatemi C'ho il microfono Quindi non bevo Non vedo Eh ciao E benvenuto Nella palestra Di Serenity Island Il mio nome È Terry Il capo palestra Di tipo terra Fammi vedere Cosa sai fare Col beneficio Della terra Allora Allora ovviamente Noi siamo scemi Quindi partiamo Con Cosom Gligar Ehm Mudslap E non sarà efficace Lo sapevo Finto attacco Magnitudo 9 Ok Va benissimo Marshtomp Perché è quello Che ci avvantaggia Di più Watergun Ancora Watergun Madonna Sempre protezione Oh Magnitudo 9 Oddio 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 Lo sapevo Watergun Me ne manca uno Oh Grande 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 Allora Vibrava Vibrava Lo possiamo Tirare giù Sì Cambio Metto Monferno Che è il 25 Quindi è un po' Scarso Flamewheel Magnitudo 5 Magnitudo 7 Madonna Allora Allora Calmiamoci un po' Guarda Gabibbo Ok Falli calmare un po' Te Ovviamente No Dragonrage Oh Bravo Bravo Non cambiamo Fanfi Secondo me Ci apre il culo Allora Sostituto Lo sapevo Lo sapevo Magnitudo 5 Uh Eh si Fa il fidget spinner Belli Ok Ok Dragonrage Yes Abbiamo battuto Il nostro Secondo Qua Popolestra Quindi Finalmente Abbiamo Due medaglie Terry Abbiamo battuto Il tipo Il tipo Terry Dirt Beige Lame Ci da una TM26 MT Earthquake Buono Buono Belli Earthquake È buonissimo Terremoto È veramente Buona Come mossa E abbiamo Battuto Il secondo Capo Valestra Allora Quindi La prossima Città Sarà quella Dove dovremo Consegnare Il pacco Che ci ha dato Il prof Il pacco Il pacco Si E Allora Si conclude qui Questo episodio Dove abbiamo battuto Il capo palestra Di tipo Terra Io spero che questo video Vi sia piaciuto Pollicione in su Commentate Iscrivetevi Qua da martin 700 Tutto Ci vediamo Nell'episodio 6 Ci vediamo Nell'episodio 6 Dove andremo a consegnare Il pacco Si Per Da parte del prof A uno O a una Non mi ricordo In un'altra città Che dovrebbe essere Quella Di cui ci ha dato Il biglietto Si spray Mi pare Io spero che questo video Vi sia piaciuto Pollicione in su Commentate Iscrivetevi Qua da martin 700 È tutto Bella